buongiorno a tutti ragazzi allora oggi vi mostro come sbloccare la valvola una valvola dell'acqua qualsiasi altra tipologia di valvola se non dovesse muoversi insomma perché queste dopo un po di tempo se non vengono mosse si bloccano io anche avendo questa farfalla non riesco comunque a ruotarla perché da un po che che non la muovo quindi facilmente bisogna prendere una 10 fissa di questo genere basta metterla qui e ruotare ok è andata anche al contrario e si è sbloccata ok è il gioco è fatto ciao ragazzi